Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per farvi vedere come ottenere i Royale 40 senza gemmare Allora ragazzi, siamo nel mio villaggio e come potete vedere io purtroppo non ho ancora i Royale 40 Ma ben presto li avrò anch'io Allora ragazzi, la tecnica più comune per fare i Royale 40, cioè quella di fare tantissimo Elisi Nero Ed è anche la più bastarda in assoluto, cioè portavi i fulmini nel laboratorio e iniziare a fulminare la gente Ora mi state chiedendo, ma Kai sei uno stronzo assurdo, ti porti anche te i fulmini e vai a fulminare la gente No ragazzi, io non vado a portarmi i fulmini per fulminare la gente, io porto i fulmini per fulminare il 50% Perché a 3400 coppie a volte si rischia il 49% e quando io faccio il 49% mi incazzo, mi incazzo Ecco, dettagli a parte, oggi vi farò vedere la vera tecnica, quella meno bastarda per fare tanto Elisi Nero in pochissimo tempo Allora ragazzi, se vedete la Lega Campione dà 1200 di Elisi Nero per ogni attacco vinto Significa che andiamo a fare un piccolo calcolo Io in questa stagione ho fatto 101 attacchi vinti, cioè solamente di bonus ho preso 121.000 di Elisi Dopo, senza contare gli attacchi, cioè i big money che dà il villaggio In media facevo sui 3000, perciò cazzo se siano tanti i big money Ok, ora andiamo a fare un attacco per vedere come poter attaccare in Lega Campione con i barge Allora ragazzi, come garantirsi sempre il 50% in Lega Campione? Allora, dovete contare che ci siano almeno 28 edifici esterni Con 28 edifici esterni solitamente fate sempre il 50% Ok, andiamo ad attaccare questo amico qua Allora, non ha punti marti! Mmm, come mi fa ingazzare Ok, allora siamo su iPhone, perciò molto difficile per me attaccare Di solito io attacco con l'iPad Ok, fate così una linea dietro Fate tutta la linea dietro di barc, di barbari E poi mettete subito gli arcieri in modo tale che i barbari vi facciano il parasederino E poi mettete gli arcieri per fare il lavoro sporco Dannazione, sono usciti i scheletrini Odiosi i scheletrini Ok, kai, fare big fail ora Non fare big fail Comunque, dopo li andremo anche a fulminare il black Mi sembra quasi ovvio sta cosa Sì, mi hanno donato maghi Clan, vi amo Ok, maghi, non morite ora Fate 50 50 50 Ho detto 50 50 50 50 50 Mamma mia Mamma mia Come odio sta roba Ragazzi, portatevi sempre un fulmine E gli eroi Soprattutto se state scalando Perché se fate 49% Mamma mia Tutte le bestemmine di questo mondo Comunque Oggi faremo una cosa veramente da bastardi Cioè, quella cosa che vi ho detto prima di non fare Andremo a fulminare una persona Non fatelo voi Non fatelo voi Lo faccio io perché io sono stronzo Ok, andiamo a fulminare Sì Sì Godo male Godo male Godo male Ok Ora cosa possiamo fottere ancora ragazzi Vediamo se No Dai, basta Basta, basta Non gli fottiamo niente Torniamo a casa Come avete visto Io con il bonus Ho recuperato l'elise che ci ho rimesso E fate conto 1200 più 1700 Fa 3000 di elise nero Ragazzi Con questo attacco sono riuscito a fare ben 3000 di elise nero Che non è per niente poco Torniamo a casa Allora ragazzi In questo video non faremo solamente quell'attacchino schifoso Ma vi farò vedere anche che metto la regina al 33 Ragazzi Devo portarla al 40 Prima possibile Al 40 Ok iPhone Non bloccarti No iPhone Ok Cazzo si è bloccato Comunque Potrei anche gemmarmela Tentazione No Ok No Ok Non sei un gemmone Non gemmare Non gemmare Allora ragazzi Vi porto un altro esempio di un giocatore Veramente un nerd assurdo della madonna Lui si è portato La regina al 40 E il re quasi al 40 Solamente con questa tecnica che vi ho appena insegnato Cioè Salire di coppia per farmare Come potete vedere Lui ha ben 288 attacchi vinti E' un nerd assurdo Ora voi mi starete chiedendo Ok Come cazzo faccio a salire in Lega Campione a farmare? Ah ragazzi Salire in Lega Campione è diventato molto molto più facile In questi ultimi 6 mesi Potete salire in Lega Campione Anche solamente con Town Hall Out Significa con Muncipi fuori Comunque se voi siete Muncipi 9 Ci mettete una settimana Se giocate 3 ore fissi al giorno Perché ragazzi C'è tanta gente che farmà con Muncipio fuori Come me Ecco Dopo avermi preso Muncipio Ragazzi Non fulminatemi Non fulminatemi Non fulminatemi Vi prego Vi prego Vi prego Vi prego Con la tecnica del bar Ci prendete 4-5 copia Perciò Voi non ci rimettete Quasi mai niente Allora Questo era il video di oggi Spero che vi sia piaciuto Come fare tantissimo Alise Nero E arrivare Gli eroi al 40 Spero che vi sia piaciuto Ma questo l'ho detto Vabbè Dettaglio a parte Come al solito Lasciatemi un like Un commento E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo